Dal caldo al freddo gelido di Milano, ci sono otto gradi, ma sono molto contenta perché questa sera ci vediamo a che tempo che fa. A dopo! Ci prepariamo! Vai Ludy! Quanto manca ragazzi? Un secondo, è finito. Ricci, ma hai sfondato la porta? Lo fanno, lo fanno. Ma cosa fa? Stiamo per andare in onda. Venite. Ragazzi, seguiteci tra pochissimo, siamo in onda. Ciao, ciao, siamo in onda. Seguite tutti Pippo. Seguite Pippo. A tra poco. Gigi. Gigi, tocca a te. Che devo fare? Hai tre secondi. Una domanda? Vai. Una domanda si può sempre fare, una risposta. Fabio, una domanda da Gigi. Vai. Una domanda non è mai discreta, una risposta talvolta può essere. Attento alla risposta. Che rispondiamo? Grazie.